Carissimi amici, un piccolo video di presentazione di questa playlist, una delle playlist a cui tengo di più, che contiene appunto del materiale a me molto caro, che è stato molto importante anzitutto per la mia vita, quindi lo condivido volentieri con i miei cari amici e amiche, come me figli e figlie di Dio, chiamati alla santità e a scoprire con l'aiuto del Signore i cammini che ci portano alla vita e alla vita vera, alla felicità anche in questo mondo. Il dono della Divina Volontà è qualcosa che ha a che fare con questa meravigliosa vocazione, con il ritrovare la pace, la gioia, una vita piena, vissuta fino a livelli di comunione con Dio, di comunione con i fratelli, di serenità, di pace che non sono ordinariamente immaginabili. È un grande regalo che Gesù ha fatto all'umanità, lo descrivo attraverso una serie di catechesi che andarono in onda negli anni 2017-2018 su Radio Buon Consiglio e poi al termine si trovano degli interventi un po' più brevi, nel senso che sono tutti compiuti in se stessi, sono una serie di o interviste che mi hanno fatto, poi ci sono un paio di interventi, piccole catechesi sistematiche che ho fatto su richiesta di alcuni gruppi e che sono una piccola sintesi di quello che è il dono della Divina Volontà. Chi non avesse il tempo oppure la possibilità di sentire tutti i video può tranquillamente vedere uno di questi più piccoli video di presentazione e poi eventualmente intraprendere un più lungo viaggio dentro la playlist alla scoperta di questo bellissimo dono. La mia benedizione su tutti, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Grazie.